Andiamo con la ottava domanda Parliamo di una delle tue scene più divertenti che hai girato Nel film Popcorn e patatine con il grande Nino Lange Parlo della scena che dici con la specie di poesia Beatrice, senti Beatrice, è una cosa importante Sì, io son sicuro che, sì, io son sicuro che Se tu mi proverai mai più mi lascerai Mi hai proprio stupato! Ma no! Quando hai girato con la scena, sei caduto davvero in acqua Cosa ricordi di quella fantastica scena? Niente, la più bella battuta fu quella di Mariano Laurenti Pagino che riposa, il regista di quel film Quando sali su, tutto perché mi portai sulla barca Mi seduce bellissima La prova era buona, ora la rifacciavano La rifacciato era tutto bagnata Fu una scena che c'era, no? Fu fatta da tre telecamere Una sotto al bordo con il sub e una dietro al motore Che mi seguirono tutti durante la caduta Mamma mia! Fa un film molto bello Che è molto bello Oggi ci parla Ci parla Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!